In una delle immagini postate, è insieme a Francesca Forgia, una storica truccatrice della RAI. Ecco che cosa ha scritto il noto presentatore. «Ciò Francesca. Qui eravamo a Trieste un paio di anni fa. Sei stata e resterai luce». Il VIP ha ricordato che senza la sua ironia, e il suo sorriso la sala trucco non sarà più la stessa. Il padrone di casa della vita indiretta, non è stato l'unico a esprimere il suo cordoglio in questa difficile situazione. Anche la redazione di Chi l'ha visto e Bianca Guaccero hanno messo nero su Bianco il loro dolore. È evidente che Francesca fosse una persona molto amata. Qualche notizie riguardo le cause di questo improvviso decesso la data bianca berlinguera è sempre carta bianca. La presentatrice ha spiegata che la truccatrice se n'è andata a 58 anni a causa di un tumore al pancreas. Frongia lavorava nella TV di Stato dal 1995, e l'anno prossimo avrebbe festeggiato 30 anni di servizio. Purtroppo non sarà così, e in tanti si rammaricano di questa perdita. Grazie. 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 Grazie.